questo computer buonasera buonasera a tutti dicevo che stasera parliamo di come essere sani in un mondo malato in realtà completamente sani non lo si può essere visto la situazione in cui versiamo dal punto di vista ambientale in generale mediamente sani o discretamente sani ecco diciamo così tendenti all'essere sani ma comunque ecco completamente un po difficile proprio perché come dicevamo anche durante la conferenza sulle diciamo sce chimiche così volgarmente dette è difficile è impossibile essere sani quando l'ambiente attorno a noi è malato abbiamo contribuito e siamo stati noi fondamentalmente a creare tutte queste problematiche ambientali quindi dal dall'inquinamento elettromagnetico alle famose sce chimiche al all'acqua inquinata all'aria inquinata insomma il cibo che non è più quello di un tempo e anzi viene riempito oltre che di roba di roba chimica quindi ovviamente questo non sicuramente non ingoiamo nulla che sia così di qualità anche se ci sforziamo chiaramente di mangiare nel miglior modo possibile comunque adesso andremo a vedere quello che si può fare per cercare di stare il meglio possibile prima di entrare nel vivo della serata vediamo un attimo le nostre iniziative quelle più imminenti che avevo già salvato ma che non mi ha salvato naturalmente vabbè allora direi di partire da un secondo solo eccolo qua un'iniziativa che avevamo già diciamo pubblicizzato la scorsa volta il 14 dicembre ormai ci siamo diciamo mancano una ventina di giorni avremo Andrea Tosatto qui a Bergamo esattamente a Ranica presso il teatro del Borgo alle 16 e 30 quindi ci sarà questa iniziativa uno spettacolo torna libero in tre mosse e chi vuole prenotarsi può mandare un messaggio al 351 5828819 un messaggio whatsapp e diamo tutte le informazioni ecco ribadisco per chi non magari non aveva fatto caso che era stato messo inizialmente alle 20 e 30 ed è stato poi spostato anticipandolo alle 16 e 30 perché essendo sotto Natale abbiamo pensato che farlo nel pomeriggio era meglio piuttosto che in prima serata andiamo avanti poi con le altre iniziative allora vediamo prima la depurazione che abbiamo ideato se riesco a trovarla eccola qua faremo a partire da settimana prossima sapete che noi sempre visto che ci occupiamo di benessere salute di prevenzione primaria di cui parleremo anche stasera tutti i mesi quasi tutti i mesi alcune volte sì alcune volte no nel mese di dicembre perché è un mese dove la gente generalmente non pensa tanto alle depurazioni ma pensa più che altro aperitivi cene aziendali panettoni eccetera però quantomeno i primi giorni in previsione proprio di una abbuffata facciamo questa depurazione detox a partire dal 2 se non sbaglio 2 3 4 dove daremo una è ok perché i giorni mi sfuggono una detox con come ingredienti principali ci sarà la mela ovviamente non solo la mela però metteremo la mela come base e daremo anche delle ricette molto semplici e veloci perché capiamo che la gente ha poco tempo e lavora e non può mettersi a fare cose complesse e la mela un ottimo frutto molto acquoso un frutto che nutre un frutto zuccherino è la stagione della mela ed è un toccasana per tutta una serie di motivazioni come tutta la frutta ma in particolar modo in questo caso ci concentreremo sulla mela e per chi vuole avere informazioni di altro genere 3 5 1 5 8 2 8 8 19 quindi se volete avere altre informazioni poi andiamo avanti con le altre iniziative volevo mettere quella vediamo se la trovo vediamo questa che avremo il 3 dicembre online questa volta sono molto martedì prossimo martedì prossimo eh sì perché il 3 dicembre alla fine è già martedì prossimo sono molto contenta faremo qualcosa di diverso martedì prossimo anche per cambiare un po la formula che ormai è diventata un pochino insomma ripetitiva eh presenteremo questa serata martedì 3 dicembre alle 20 45 via zoom voci dei regni dell'incanto quindi una serata con donna da vatiena miri all'epore che è una diciamo sensitiva definiamola così è una lettrice di registri acascici canalizza ehm una persona molto carina che abbiamo conosciuto recentemente e lei ci parlerà di come risvegliare il potere magico di condensare i sogni in realtà eh martedì sera farà questa presentazione e poi se ci saranno i presupposti rilancerà un seminario di una giornata penso il 21 dicembre quindi molto a ridosso di Natale sempre per chi è di Bergamo e provincia perché lo farà in presenza la presentazione sarà online ovviamente il seminario di un giorno la cosa interessante che mi è piaciuta particolarmente oltre che lei è una persona molto molto carina è che ehm come come spesse volte le persone che canalizzano comunque hanno dei contatti con il mondo dell'invisibile alcune volte tendono a rimanere un pochino su no nel ehm in alto e non portare giù nella materia determinate cose che sembrano un pochino solo per pochi un po' difficili un po' da favola insomma ecco e invece lei è molto pratica infatti quello che di cui vuol parlare è proprio il fatto che tutti possiamo tutti abbiamo la scintilla divina e eh soprattutto lavorerà quando farà il seminario sul portare i sogni nostri e portarli nella realtà perché poi alla fine nella materia dobbiamo vivere e quindi è qui che ci interessa realizzarci al di là dell'aspetto puramente teorico e quindi portare giù eh nella materia la realizzazione personale che non è poca roba ecco quindi martedì prossimo avremo questa novità vi consiglio di esserci perché è una persona veramente in gamba e possiamo continuare con le ultime locandine allora vi ricordiamo sempre eh per chi scusate ho sbagliato ricordiamo sempre che c'è questa questo diciamo eh percorso di longevità che è stato da noi ideato ormai più di un anno fa ehm è molto collegato all'argomento di stasera quindi la vera prevenzione non è la l'esame diagnostico precoce ma si tratta di uno stile di vita sano ehm fatto di sana alimentazione di di esercizio chimico scusate di esercizio fisico eh compatibile di un eh livello di stress contenuto di un insomma tutti quelle quelle abitudini eh virtuose che fanno sì che ci manteniamo in salute il più a lungo possibile senza ricorrere ai farmaci non perché i farmaci vengano demonizzati sempre ma perché eh sempre è preferibile prenderli avendo degli effetti antipollaterali e intossicando l'organismo quando non se ne può fare a meno e in condizioni normali eh evitarli fin tanto che possiamo agire sulla vera prevenzione per questo percorso prevede tre o sei mesi in cui venite seguiti da noi eh in presenza se siete di Bergamo e provincia anche online facciamo consulenze se siete lontani facciamo una valutazione diciamo complessiva e poi eh vi diamo delle indicazioni in base alla vostra tipologia le vostre caratteristiche eh per tutte le informazioni tre cinque uno cinquotto due otto diciannove eh vado veloce perché così entriamo poi nel nel merito della serata eh vado veloce vado veloce vediamo abbiamo poi ideato eh un paio di pacchetti eh regalo diciamo così vediamo se riesco a trovarli allora prima opzione pacchetto natalizio arrivo allora dei pacchetti natalizi che sono idee carine per persone che magari se volete regalare ovviamente devono essere persone di un certo tipo nel senso eh che apprezzano tutto ciò che c'è di naturale e ecco che piacciono i massaggi vabbè i massaggi piacciono a tante persone però poi ci sarà eh la scelta dei fiori di bacca di cui la persona ha bisogno in quel momento e una mini consulenza di trenta minuti che viene fatta prima di tutto chiaramente l'abbiamo messa sotto ma viene fatta per conoscervi e quindi capire un po' come siete a livello di insomma di di salute in generale eh quindi prezzo scontato scontatissimo su 65 euro eh fruibile dal primo dicembre al trentun gennaio in presenza presso lo studio di Alzano ovviamente il massaggio non possiamo farlo a distanza quello è ovvio quindi è chiaro che è in presenza e poi abbiamo un altro pacchetto e poi e poi passiamo all'argomento il secondo pacchetto natalizio che abbiamo deciso di proporre li trovate anche sul nostro canale telegrama e questi pacchetti li abbiamo messi eh carta numerologica consulenza in presenza oppure online quindi prezzo scontato 95 euro anche questo si può fare sia per le persone in presenza che per le persone eh so che sono lontane quindi non possono essere qui e quindi anche qui per ogni informazione abbiamo messo i nostri riferimenti possiamo entrare nel nel pieno della serata e partiamo con eh l'argomento di stasera come essere sani in un mondo malato ho già iniziato eh dicendo una cosa non bellissima che però è inutile diciamo girarci attorno secondo me perché eh essere completamente sani in questo ambiente attuale in cui viviamo è praticamente impossibile possiamo stare mediamente bene o possiamo stare tendenzialmente bene però completamente sani e completamente in forma in salute è molto difficile perché siamo senza essere pessimisti questo non è un argomento che un qualcosa che diciamo per terrorizzare o spaventare le persone è un dato di fatto eh siamo inseriti in un ambiente che è ormai completamente compromesso inquinato l'aria l'acqua eh ciò che mangiamo mh tutto quello che assumiamo è abbastanza alterato in più sicuramente anche se vogliamo guardare da un punto di vista sociale eh le persone mediamente non stanno troppo bene eh per eh tutta una serie di motivi ritmi frenetici a cui sono sottoposti siamo sottoposti eh il traffico da paura che c'è soprattutto in certe regioni la Lombardia è una di quelle lo stress eh che che è altissimo nella maggior parte delle persone eh gli impegni sono troppi e una persona riesce a farvi fronte pagando un prezzo abbastanza alto sto parlando in generale chiaramente poi ogni situazione va vista nel dettaglio però ecco sto parlando di una famiglia media papà mamma e figli eh con due lavori la casa eh i figli da crescere le responsabilità eh mantenere i figli tirarli su dargli un'educazione una serenità economica insomma soprattutto anche l'uomo ma soprattutto la donna generalmente è sottoposta a uno stress eh questo non è per essere femminista eh assolutamente anche l'uomo fa la sua parte però eh dovendo tenere la casa i figli andarli a prendere portarli ai varie alle varie attività se noi facciamo un quadro di tutto questo sì può essere sicuramente una famiglia diciamo nella media felice mh per contenta del insomma contenta per tutta la situazione complessiva ma sicuramente i ritmi non sono tranquilli i ritmi non sono umani ma sono sempre accelerati perché bisogna continuare a correre a correre a correre poi ci sono le scadenze c'è il lavoro ci sono i figli a portare a scuola ad andare a ritirare il traffico e sicuramente una situazione così anche la persona che è maggiormente attrezzata dal punto di vista emotivo ha eh dei momenti di eh sbandamento che poi eh non sono così visibili perché eh tante persone poi si riversano il loro stress sul cibo per esempio infatti una delle problematiche è quello che si mangia troppo il cibo in eccesso è causa di tantissime malattie o comunque di diverse malattie che fino a cent'anni fa non c'erano il colesterolo alto che poi va bene non è una malattia di per sé però il diabete i trigliceri di alti eh cioè l'obesità sono malattie che derivano da eh un eccesso di cibo un eccesso di cibo e un eccesso di cibo di cattiva qualità quindi lo stress non si manifesta sempre soltanto con la persona che dà in escandescenza o si arrabbia o butta per aria tutto eccetera ma si manifesta in maniera subdola spesso quindi una persona che si butta sul cibo generalmente eh si butta anche sul sulla ludopatia quindi persone che ehm si dedicano al gioco al gioco d'azzardo e diventano dipendenti cioè ognuno manifesta il malessere perché anche o sulle droghe o sull'alcol ci sono anche donne che si danno all'alcol e che è un fenomeno abbastanza nascosto ehm perché che per sopportare lo stress bevono a casa cioè adesso tutte queste situazioni esistono non sono qualcosa di astratto e questo è proprio il segnale di una società che proprio bene non sta eh stasera però parliamo essenzialmente di prevenzione la prevenzione delle malattie diciamo così ehm sta nel non attuare comportamenti dannosi o come dicevo prima avere dei comportamenti virtuosi ehm evitare il più possibile fin quando si può e questo l'ho detto all'inizio l'utilizzo dei farmaci i farmaci allora è un po' la eh la tendenza di questi ultimi anni che che c'è anche nella vita e si collega a quello che ho detto prima il tutto è subito le persone vanno di fretta hanno tante cose da fare non hanno tempo da perdere non possono ammalarsi quindi al primo segnale di malessere dovuto al fatto anche che si corre sempre eh ingurgitano il farmaco che è soppressivo del sintomo che non va a vedere cosa si è rotto in quell'equilibrio di quella persona ma va semplicemente a sopprimere il sintomo perché si ricorre ai farmaci con così tanta facilità visto che non sono risolutivi della situazione anzi generalmente poi sappiamo che un farmaco spegne un sintomo poi il sintomo si manifesta da un'altra parte non si collega con quello iniziale quindi si prende un altro farmaco e quindi il corpo si intossica si sovraccarica il fegato eh accumula un sacco di tossine non solo il fegato e eh in realtà la persona sta sempre peggio questa è la sostanza eh la prevenzione primaria cosa implica ed è implica anche una presa di responsabilità da parte della persona che non è tutto veloce non è la natura se noi ci eh rifacciamo alla natura la natura ai suoi tempi quindi eh attuare un sano stile di vita eh e quindi avere già un terreno ben eh piazzato diciamo così per far fronte eventuali disequilibri situazioni di stress ma anche clima rigido piuttosto che sbalzi di temperatura e quando e se si manifesta un malessere fermarsi non ingurgitare il primo farmaco possibile andare far finta che non è successo niente capire perché utilizzare anche magari qualche rimedio eh che possa essere fitoterapico naturale per alleviare il fastidio e tutto quanto ma eh non andare a sovraccaricare l'organismo ulteriormente sopprimendo un sintomo perché dobbiamo capire perché si è manifestato quel sintomo andare alla 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 sua base andare all'origine e cercare di riarmonizzare l'organismo quindi il naturopata appunto io e Carlo siamo due naturopati eh non curiamo niente diciamo sempre riportiamo in equilibrio la persona chiaramente eh come dicevo prima è molto più comodo per la maggior parte delle persone assumere il farmaco e andare oltre mentre eh fare un percorso di tipo se vogliamo così naturopatico naturale chiamatelo come volete eh bisogna assumersi delle responsabilità riconoscere di avere un problema perché tante volte non si vuole neanche riconoscere di avere un problema fermarsi analizzarlo valutarlo prenderne consapevolezza e questo percorso è anche doloroso spesse volte non è così semplice insomma bisogna andare a magari eh andare ad analizzare situazioni in cui non stiamo più bene e che ci creano quel malessere quel disagio spesse volte invece si tende a far finta di niente ad andare avanti col farmaco sopprimiamo il problema ma poi tutto quello che trascuriamo viene fuori in maniera ancora più eh pesante purtroppo è così ehm la medicina si occupa pochi la medicina convenzionale si occupa pochissimo come dicevamo prima della prevenzione primaria interviene solo quando il processo patologico si è instaurato o ancora peggio quando si manifesta eh col sintomo del resto però eh è vero che le persone la mentalità media dell'italiano medio è quello di andare dal medico quando ho il dolore quando ho il problema se sto bene chi me lo fa fare di andare di continuare a stare bene di andare da qualcuno che mi aiuti a continuare a mantenere l'equilibrio non non è una mentalità che eh che c'è molto in Italia diciamo che durante il periodo post covid c'è stato per un attimo un maggior interesse verso la prevenzione eh per un momento la gente spaventata ovviamente impaurita ha cominciato a chiedere informazioni a a cercare di cambiare un po' lo stile di vita magari mangiare meglio prendere degli integratori mirati e c'era più questa attenzione no? Nell'immediato post covid poi c'è stato questo appiattimento di nuovo e adesso infatti c'è si sente molto questa cosa la gente è tornata alle sue attività alle sue cose quotidiane al suo al suo tran tran quotidiano e eh come vi dicevo generalmente non non pensa a stare bene quindi o fa esami diagnostici precoci perché per molti la prevenzione è quella ma quella non è prevenzione primaria quella è esami diagnostico precoce quindi io comprendo e vedo che ho un problema quando già c'è però quando già ho il problema no non prima che si formi quindi non è una vera prevenzione in Germania è molto diverso per esempio questa questa cosa perché il eh la persona può scegliere di curarsi per esempio con la medicina convenzionale all'opatica oppure può eh andare dal naturopata e che oltre alla prevenzione utilizzerà anche dei rimedi naturali eh non invasivi delle pratiche naturali è anche vero però che c'è una mentalità diversa e poi che il naturopata eh in Germania è personale paramedico e ha degli studi molto molto approfonditi che sono molto simili a quelli del medico effettivo ehm quindi la naturopatia dà la possibilità di occuparsi di eh vera prevenzione primaria come noi diciamo ricorrendo una sala d'alimentazione a dei sani rapporti sociali a un ambiente salubre che appunto come abbiamo detto prima non c'è più per cui completamente bene è impossibile stare ehm però si possono chiaramente contenere i danni e stare mediamente bene attraverso questi processi naturali semplici a nullo a basso costo eh quindi con la naturopatia si si indicano quali sono gli strumenti più efficaci per mantenere l'omeostasi dell'organismo eh ricorrendo all'intelligenza pura che risiede nel nostro corpo ecco un'altra cosa che la medicina convenzionale non su cui non pone minimamente l'attenzione ma anche perché non non interessa minimamente è quella che il nostro corpo messo nelle migliori condizioni ha una capacità di autoguarirsi che è eccezionale l'abbiamo soffocata proprio perché c'è quella mentalità di prendere il farmaco appena abbiamo un po' di fastidio eh quindi il corpo al corpo non gli si dà il tempo perché il tempo non c'è bisogna fare tutto di corsa e bisogna andare a lavorare l'influenza non si sta a casa sotto le coperte con la tisana il brodo caldo eccetera ma bisogna prendere non so neanche che farmaci ci sono adesso l'occhi il boh il lauli si prendeva una volta il brufen per tornare subito in pista il prima possibile quindi il corpo il cui processo la febbre che è un processo sanissimo in cui il corpo innalza la temperatura per bruciare le tossine se noi lo lasciamo chiaramente tenendo sotto controllo la temperatura ma lasciando sfogare questo aspetto questa parte importantissima il nostro corpo si riequilibra e quindi quando noi usciamo da una febbre anche un pochino alta siamo fortificati abbiamo un sistema immunitario che ha reagito ed è attivo ed è in buona funzione se noi con la tachipirina spegniamo eh attraverso il messaggio all'ipotalamo diamo una falsa informazione che la temperatura sia abbassata chiaramente il nostro corpo non riesce a mettere in campo la sua capacità di autoguarigione e eh no non si realizza quel processo di fortificazione dell'organismo anzi lo si indebolisce ancora di più quindi non siamo più abituati a fermarci ascoltarci a stare a casa al caldo a magari mangiare eh cose liquide ad assumere estratti eh a prenderci del tempo per eh per faremo perché il nostro organismo ha una saggezza venendo dalla natura essendo parte della natura che noi purtroppo abbiamo e che anche tutti i medici quasi tutti i medici hanno dimenticato e di conseguenza anche le persone con questo noi non vogliamo parlare male degli farmaci perché il farmaco alcune volte salvifico l'abbiamo detto più volte alcune volte il farmaco salva la vita soprattutto nei casi di estrema urgenza eh ma andrebbe preso oppure l'analgesico quando si ha un forte dolore va benissimo non è che bisogna soffrire non morire dal dolore ci mancherebbe ma dovrebbe essere preso proprio come ultima spiaggia quando proprio non abbiamo alternativa ok facciamo assumiamo il farmaco chimico ma prima facciamo tutta una serie di cose per mantenerci meglio possibile e probabilmente se facciamo così di farmaci ne utilizzeremo gran pochi quindi agiamo prima per evitare poi di intossicarci che già appunto visto l'ambiente in cui viviamo purtroppo ci riempiamo di tossine e quindi depurazioni periodiche semi digiuni clisteri pulizie intestinali diventano fondamentali per riuscire a mantenere un minimo di benessere oltre all'esercizio fisico e a tutte cose che eh richiedono tempo certamente richiedono tempo vuoi dire qualcosa Carlo? Eh sì certo purtroppo la medicina di oggi è è impostata sulla paura il fatto che si fanno tutta una serie e tanti esami diagnostici eh in maniera esagerata proprio e perché si ha sempre paura si bisogna andare sempre a cercare il problema ricercare il problema l'approccio invece della medicina naturale è quella di avere una grande fiducia del proprio corpo della sapienza magistrale della natura e se si imbocca quel percorso che è un percorso anche di conoscenza poi fondamentalmente di quello che sono le dinamiche e di quello che è il significato e il senso biologico della malattia quindi il benessere passa sicuramente attraverso una visione molto più ampia della persona della vita del fatto di prendersi in mano la responsabilità della propria salute quindi fai intendo in campo tutta una serie di di iniziative e è un'impostazione di tipo di vita di un certo genere e lì il passaggio fondamentale non della persona che vive pensando di che tutto possa andare sempre bene poi gli viene fuori il problema non ha mai pensato non si è mai messo in connessione col proprio corpo perché un aspetto importante è quello di sentire il proprio corpo entrare in connessione quindi sono processi sicuramente che con la visione della medicina attuale completamente due strade diverse perché se una persona oggi ha un problema va dal medico gli da il farmaco la pillolina magica è risolto il problema quindi non è andato neanche a cercare di capire il perché è accaduto quello e d'altronde il nostro corpo parla il nostro corpo ci manda tutta una serie di messaggi che se interpretiamo magari con l'aiuto di un terapeuta riusciamo ad andare a individuare quelle che sono le cause perché è inutile se non si va a lavorare sulle cause i problemi poi continuano sempre a ripetersi né più né meno certo il mercato ci guadagna sempre perché una società di questo tipo vive sul consumo il pil il prodotto interno lord deve aumentare sempre di anno in anno cosa che ci sarà una fine a un certo punto perché il prodotto interno non può aumentare sempre 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 perché se non aumenta entrano in contraddizione e in conflitto tutta una serie di fattori e è come una bolla di sapone che esplode quindi si vive sempre in maniera così molta gente la maggior parte di gente vive in maniera tranquilla come se tutto fosse normale non c'è niente di normale in questo mondo qui e di adesso viviamo veramente di fronte il disastro un disastro ambientale inondazioni piogge terrenziali distruzione delle foreste infatti la foresta dell'amazonia la stanno distruggendo e quindi vanno a variare tutta una serie di equilibri e di ecosostenibilità veramente è lì il problema le coltivazioni tutto su monocoltura perché devono produrre quello che il mercato serve e producono sempre sempre quello però i terreni non possono essere coltivati sempre con la stessa cultura in genere fino a poco tempo fa facevano girare culture diverse per per arricchire poi in pratica il terreno lo sfruttamento esagerato di tutte le risorse risorse naturali e viviamo veramente una società che non può andare avanti così siamo una società che va in stato terminale ma questo bisogna essere coscienti di queste cose qui molta gente fa finta di niente abbiamo fatto tenuto come diceva melissa una conferenza sulla geo ingegneria che è venuta molto bene qui a bergamo e sulle scie chimiche tanta gente continua a dire ma sono stupidaggini ormai e lo dicono chiaramente si vuole modificare il clima attraverso attraverso la geo ingegneria ma lo dicono chiaramente e la gente ha in effetti il salame sugli occhi e questo cosa fa cosa fa la variazione di clima sta creando disastri in maniera esagerata in determinate zone ma poi comunque può essere utilizzato ed è sempre stato utilizzato già anche nella guerra del vietnam la geo ingegneria quando hanno allagato i guerriglieri per per sconfiggerli è sempre stato utilizzato e quindi ci troviamo di fronte veramente uno sconvolgimento esagerato quindi è un mondo malato e perché infatti non si riesce a spiegare il perché la società quella che si chiama del benessere la gente si ammala sempre molto di più molto di più quando abbiamo parlato sul discorso della celiachia per esempio non molto tempo fa nel giro di una dozzina d'anni i malati di quella malattia sono raddoppiati e la sensibilità al glutine tantissima gente la sviluppata non ci sono esami che possano individuare questo quindi bisogna avere molta molta attenzione infatti non per niente e tre anni che teniamo il martedì sera delle dirette zoom appunto per dare degli strumenti alle persone per conoscere ed essere consapevoli di quello che sono le cose e quando si ha conoscenza e consapevolezza si è già a metà strada sicuramente poi l'altra metà e mettere in pratica le cose e di cose se ne possono fare sicuramente tante prima cosa è perdere la paura si perde la paura con la conoscenza si perde con la paura nel prendendosi la responsabilità della propria salute e quindi la propria vita chi agisce e interviene nelle cose e nella sua vita ha sempre meno timore e meno paura di chi subisce passivamente senza sapere quello che sta accadendo quando si sa quello che sta accadendo e si mettono in campo determinate cose per certi aspetti ci si pare alle spalle chi invece non conosce niente non sa nulla viene è come se fosse una barchetta in un mare in tempesta possiamo evitare quelle situazioni con la conoscenza sapendo come stanno le cose e quindi essere padroni della nostra nella nostra vita anche nei momenti difficili è lo stesso anche in momenti difficili possiamo essere veramente noi padroni della nostra salute mettendo in campo tutta una serie di iniziative e noi come associazione ma come naturopati stiamo mettendo in campo tante ne produciamo veramente tante 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 quindi gli strumenti li forniamo sia come conoscenza ma sia anche iniziativa da mettere veramente in pratica e sapere lavorare su di sé a livello fisico ma a livello psicologico e a livello spirituale quindi lavoriamo tanto in quella direzione perde e perdere la paura la cosa fondamentale quando si è padroni di se stesso e quindi non si delega non si delega tutto agli altri all'esterno perché oggi la gente delega tutta una serie di cose a qualunque livello che sia la spiritualità che sia la cultura che sia che sia la salute si delega si delega si delega ma questo è l'errore più grosso che si possa fare è l'errore più grosso e quindi quindi si può fare vera prevenzione primaria facendo tutto un percorso come spesso abbiamo abbiamo indicato e quando fai una vera prevenzione primaria ti rendi conto sempre di più che la natura ci ha fornito un corpo e una mente eccezionali nella visione della medicina classica l'essere umano è inerme rispetto i microbi esterni nella medicina naturale è l'opposto quindi l'eccesso di igienizzazione peggiora tantissimo la salute quindi igienizzare particolarmente per i bambini che stanno costruendosi le difese immunitarie quelle acquisite quelle che si quelle che si sviluppano incontrando il virus i virus e le problematiche si rafforza il corpo se non gli si permette quel percorso di incontro scontro con i microbi esterni e beh vuol dire non dare la possibilità al corpo umano di stimolare questa queste difese immunitarie vuol dire metterle in mano alla lobby delle farmaceutiche non ci sono altre 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 possibilità altre risposte è quello quindi quindi è importante conoscere queste cose di cose possiamo farne tante il mondo è malato produce persone malate ma le persone coscienti vengono fuori da questo percorso questo è sicuro è certo al cento per cento poi ripeto come associazione divulghiamo per quello che serve a livello pratico io e Melista adesso abbiamo sviluppato comunque in questi anni una ottima esperienza poi oltretutto ne abbiamo parlato già la volta precedente abbiamo uno strumento quantistico che lavora sul riequilibrare le frequenze quindi abbiamo 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 in mano tutta una serie di strumenti collaudati nel tempo ma anche questa macchina quantistica dove stiamo ottenendo dei buoni risultati chiaramente affiancato a tutto un percorso e al lavoro del naturopata questo è fondamentale però uno strumento in più rispetto tutti quelli che abbiamo utilizzato in questi anni questo è quello che volevo dire direi volevo dire due cose sui precetti naturopatici che appunto sono in diciamo contrapposizione abbastanza rispetto a a quelli della medicina allopatica e che però abbiamo già citato prima non combattere i sintomi gli stati infiammatori sono guaritori che il corpo attiva i trattamenti le cure e le metodologie non devono essere invasive bisogna dare al corpo il tempo necessario per ripristinare l'equilibrio la fretta e il desiderio del risultato non si sposano con le leggi della natura gli squilibri sono causati non solo da ciò che si mangia e si fa ma anche da ciò che si pensa e dal vissuto mentale ogni individuo ecco questo è un principio importantissimo che non viene proprio preso in considerazione dalla medicina moderna ogni individuo pur essendo simile agli altri è comunque un essere unico e ripetibile quindi ogni agire terapeutico deve risultare personalizzato non è che si dà un farmaco e deve andare bene per tutti ma ogni rimedio deve essere calibrato sulla storia e sull'indagine fatta in maniera approfondita sulla persona che si ha di fronte e questa è una cosa molto importante perché quello che fa bene a me non fa bene a un'altra persona o al contrario quello che fa male a me potrebbe essere una qualcosa di positivo per qualcun altro perché siamo tutti 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 diversi e questo è anche la bellezza della natura di come siamo stati fatti dalla natura quindi prima bisogna leggere i sintomi poi rintracciare le cause attivare i processi naturali di autoguarigione quindi spesse volte anche togliendo non andato ad aggiungere togliendo delle cose che abitudini errate che la persona mette in atto attraverso l'alimentazione ma anche altri tipi di abitudini che possono diventare un ostacolo alla guarigione quindi molto importante spesse volte bisogna togliere alla persona piuttosto che andare ad aggiungere altre cose poi in un secondo momento ci sta bene l'integratore ma prima di tutto andare a rivedere un po' lo stile di vita perché se una persona ha manifestato un malessere un sintomo un disequilibrio chiamate la malattia nel linguaggio generico è perché c'è stato a monte qualche errore che ha fatto sì che si ammalasse quindi ecco bisogna andare alla causa del problema e poi ovviamente stradare la persona verso stili di vita che siano il più sani e naturali possibile sempre limitatamente all'ambiente malato in cui viviamo perché quello è bisogna dirlo sarebbe falso dire il contrario e mantenere nel tempo lo stato di equilibrio raggiunto quindi diciamo che se vogliamo essere sinceri la naturopatia in quanto tale più che una disciplina sì ma può essere definita più come una filosofia di vita perché come vi dicevo pone al centro la persona l'assunzione della sua responsabilità il fatto di essere in grado di affrontare anche dei cambiamenti che alcune volte possono risultare dolorosi per andare verso il benessere verso l'equilibrio se è stato perso questo equilibrio chiaramente e quindi può essere senza alcun dubbio definita proprio come un uno stile di vita e una filosofia di vita e non è comoda ecco assolutamente è la via meno comoda ed è per quello che è la meno la meno percorsa la meno frequentata perché di contro la medicina allopatica ha il grandissimo vantaggio che è veloce e quindi che risolvo subito il problema noi chiaramente siamo in una società che va veloce e ci hanno fornito la salute veloce quindi subito non è in realtà è un'illusione uno specchietto per la lodole perché poi oltre a non guarire come abbiamo visto anzi si si peggiora si dice il sintomo si vicaria da qualche altra parte e noi continuiamo a stare male a prendere farmaci ma non risolviamo il problema stiamo sempre peggio in realtà non è un è più veloce inizialmente ma è appunto una finta velocità mentre se noi ridiamo al corpo il tempo di cui ha bisogno per ristabilire l'equilibrio e lo riusciamo a ristabilirlo con tutta una serie di anche rinunce anche con passi magari che ci risultano difficili però una volta riacquistato l'equilibrio è vero che è riacquistato non è uno specchietto per le allodole è ristabilire l'armonia in base a quelle che sono le leggi naturali quindi i momenti della consulenza potrebbero essere definiti su due punti il primo passo si detossina il corpo quindi allontanamento delle tossine depurazione soprattutto dell'intestino dove hanno sede le nostre difese dove appunto è quello più intossicato soggetto a maggior sollecitazione a seguito di tutto ciò che ingeriamo respiriamo pensiamo secondo cervello eccetera dopodiché si ricostituisce un'alimentazione sana l'esercizio meditazioni respiro visualizzazioni tutto quanto ma prima andiamo praticamente a ripulire l'organismo e quindi ecco anche per quello che spesse volte facciamo delle depurazioni perché è fondamentale è fondamentale ogni tanto che il nostro corpo lo lasciamo a riposo o lo facciamo lo utilizziamo gli organi li facciamo lavorare il meno possibile quindi anche il digiuno intermittente anche il clistere la pulizia intestinale così andiamo a ripulire la parte finale del colon ecco sembrano tutte cose che magari per qualcuno sono banali ma se uno li mette le utilizza si accorge della differenza si accorge che riesce meglio a fronteggiare quelle che sono le problematiche quotidiane a un corpo più resistente meno soggetto a poi ci si può ammalare sempre comunque è quello è chiaro siamo umani però anche se succede nel giro di due tre giorni torniamo in forma perché il nostro sistema sanitario è forte ma infatti nelle medicine tradizionali era importante fondamentale il discorso della depurazione del detox facevano utilizzano i digiuni tutta una serie di tecniche appunto per ripulire il corpo perché vuol dire metterlo al massimo e al meglio delle proprie potenzialità e poi comunque non per niente in israele da quello che che so quando c'è un tumore prima cosa fanno una pulizia radicale all'interno del corpo dopo di che iniziano a lavorare quello è fondamentale ma qui non esiste una cosa del genere assolutamente e infatti quello quel medico che dicevi oggi che avevo già sentito un'intervista mesi fa primario di ospedale armando leo dell'ieo istituto tumori la lotta contro il tumore l'abbiamo persa ma detto in maniera tragica questo perché questo è uno che ci ha lavorato per anni col discorso tumori però è tragico perché muoiono 180 mila persone ogni anno di tumore questo è una sconfitta per la medicina ma è una sconfitta anche per la società perché come è possibile che così tanta gente si ammala di tumore 50 anni fa malati tumore erano pochissimi erano pochi era abbastanza raro 50 anni fa adesso invece è esplosi in maniera pazzesca pazzesca tumore quindi vuol dire è uno degli effetti questa società malata completamente piena di tossine ma infatti infatti quello che respiriamo mangiamo eccetera inquinato è chiaro che non possiamo stare con i latoni ai suoi tempi dice esistono due tipi di medicina quella adatta agli schiavi per i quali è sufficiente eliminare i sintomi dato che devono tornare velocemente al lavoro è la medicina per gli uomini liberi attenta non solo ai sintomi ma anche all'anima ai rapporti familiari e tutta una serie di cose quindi una medicina più intelligente che andava a ricercare le cause gli schiavi no non serve devono tornare subito a lavorare e quindi devono produrre insomma questa fa pensare tanto comunque sulla vita di oggi direi che niente abbiamo abbiamo fatto questo un po panoramica del riuscire a mantenersi nelle migliori condizioni possibili in un mondo che appunto abbiamo come dal titolo è malato in effetti e quindi prima la prima cosa che possiamo fare è agire su di noi ognuno su se stesso perché poi concludo con questa frase che magari a qualcuno suona strana volevo dare scusa due dati che avevo già preparato prima sul mondo malato in italia 5 milioni e mezzo di persone aspetta non c'è il video in italia che attualmente 5 milioni e mezzo di persone prendono antidepressivi che non sono un farmaco tanto leggero perché va a sballare tu una serie di sensibilità e altro e poco meno di 8 milioni sono le persone che esagerano gli uomini tra gli uomini che esagerano con l'alcol sono persone insoddisfatte sono persone che non gestiscono la loro vita la fanno gestire a un sistema per quello dicevo la paura e non essere responsabile responsabili della propria esistenza della propria salute del proprio benessere porta a essere delle barchette in mezzo a un oceano in tempesta e chiaramente non si controlla più nulla questo per completare volevo dire appunto dicevo che il mondo esterno è malato però una cosa fondamentale c'è da dire che appunto possiamo agire su di noi singolarmente che è la cosa fondamentale è l'unico potere poi che abbiamo e poi ricordiamoci sempre che tutto quello che si manifesta all'esterno è scomodo da dire ma non è non è altro che un riflesso di quello che abbiamo all'interno quindi è un è la pura verità quindi quando guariremo noi al nostro interno automaticamente anche il fuori si manifesterà in modo più armonioso diciamo così e diciamo che adesso siamo in una fase in cui tanto sta venendo fuori tanto c'è da spurgare da pulire e quindi siamo in questa fase di pulizia profonda però chiaramente ognuno come dicevo prima una persona che ha commentato deve fare il suo percorso non si può obbligare nessuno questo è chiaro non si può neanche dare notizie alle persone che non vogliono sentire bisogna rispettare il percorso di ognuno e poiché non possiamo dire le cose sì poi se c'è terreno bene altrimenti proseguire per la nostra strada e quindi lavorare su di noi quindi essere noi i primi a diciamo essere un esempio prima di tutto agendo su di noi poi chiaramente diventiamo possiamo diventare un esempio anche per gli altri è il potere più grande che abbiamo perché poi una goccia in un oceano una due tre quattro gocce poi si crea il mare ecco volevamo concludere così ognuno per sé può fare tanto per migliorare le cose agendo su se stesso che è la cosa che c'è possibile fare attualmente e direi che possiamo dire seguiteci attraverso il nostro canale telegram onda vita l'associazione dove ci sono tutte le nostre iniziative chiaramente ma mettiamo anche degli argomenti di attualità per sapere quello che sta accadendo attorno del fondamentale perché chiaramente i mass media dicono la loro versione ma sappiamo benissimo che sono tante falsità e sia sul nostro canale telegram onda vita l'associazione ma anche su quello o quello su youtube per esempio seguiti eccetera questi canali qui dice patrizia come dico sempre mia figlia siamo gocce in un oceano vediamo di essere almeno gocce pulite e sì ognuno può fare può dare il suo contributo quindi se uno guarda all'esterno può perdere il perdere diciamo il coraggio deprimersi in realtà dobbiamo avere la consapevolezza che possiamo fare tanto nel nostro piccolo che non è così piccolo per la propria parte c'era quella storia della zen della foresta che va in fiamme e il colibri va al mare prende due tre gocce e le porta per spegnere l'incendio e gli animali della foresta dicono ma cosa vuoi fare con due tre gocce non serve a niente e lui risponde il colibri io faccio la mia parte ognuno e così deve essere e con questa massima vi salutiamo vi auguriamo una buona notte ci vediamo martedì prossimo con questa diciamo novità originale siateci perché sarà una bella seratina un po diversa e grazie e buonanotte a tutti grazie ciao ciao